Dieci anni da Papa per Bergoglio è un volume del giornalista Giussino Parisse che ricostruisce la storica visita del Pontefice per la perdonanza. Papa Francesco L'Aquila è un volume epocale che raccoglie la cronaca pubblicata sul quotidiano Il Centro del giornalista della storica visita nell'estate del 2022 del Papa in città per aprire la Porta Santa di Colle Maggio. Sarà presentato a donna anche se è stato già pubblicato il 6 aprile, 14esimo anniversario del sisma. Ma in questo volume c'è innanzitutto la cronaca scritta, le cose che ho scritto io naturalmente, relative alla visita del Papa, ai giorni della visita del Papa. Però siccome questa visita fu annunciata dal Cardinale Petrocchi un anno prima, nell'agosto del 2021 in presenza anche del Sindaco Biondi e quindi da allora praticamente se ne è parlato tantissimo, ci sono stati tanti articoli, anche tanta incertezza perché poi sulla visita del Papa l'incertezza c'è stata praticamente fino all'ultimo minuto per le condizioni. E quindi in questo libro ho raccolto tutti gli articoli scritti da me dall'agosto del 2021 fino al settembre praticamente del 2022 che parlano appunto di prima, del durante e del dopo la visita del Papa. Un evento epocale che ha spinto anche la ricostruzione della cattedrale, cui lavori sono stati finalmente consegnati e che ha regalato ai fedeli l'anno giubilare della misericordia. Nel volume sono riportati anche i discorsi di benvenuto al Papa del Cardinale Petrocchi, determinante nella visita del Papa, eppure il saluto del Papa ai familiari delle vittime del sisma in Piazza Duomo, nonché la bellissima omelia a Collemaggio. Ecco, la visita di Papa Francesco ha sbloccato anche il cantiere della cattedrale, è stato dato l'annuncio finalmente dell'avvio dei lavori, ha prodotto cambiamenti significativi nel dopo in città questa visita o ancora non si vedono? La cosa visibile è quella che appunto dicevi, cioè il Duomo. Adesso i lavori sono partiti, ci vorranno anni ancora, questa è la cosa tangibile. Per quanto riguarda il resto, io dico sempre, noi a Guilani stiamo godendo dell'ascito di Celestino V a 700 anni di distanza. Aspettiamo un po' di tempo anche per Francesco.